Siamo giunti a questo evento della Proloco, il Carnevale, questa mattina abbiamo fatto i fagioli quiet, quindi è stato un ottimo successo, è un ottimo successo anche oggi pomeriggio con il Circo Uau e tutti i bambini che sono dentro, che stanno giocando, che stanno partecipando a questa iniziativa, sono veramente orgoglioso e felice perché quando si fa qualcosa a Valperga in un modo onesto, trasparente e gioioso la gente partecipa e c'è. C'è stato un restyling della Proloco, praticamente ci sono nuovi membri che fanno parte del direttivo ma l'unica cosa che voglio garantire a tutti i valperghesi è che stanno accendendo una buona sinergia, un buon gruppo e quindi sicuramente può solo essere un buon auspicio per Valperga in modo di fare degli eventi veramente importanti con la vostra partecipazione. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i commercianti valperghesi che con la loro disponibilità ci hanno permesso di poter offrire il rinfresco ai bambini e tutto quanto. Soprattutto poi anche a chi ha partecipato per i fagioli con le cotiche che sono venuti numerosi abbiamo confezionato circa 700 cotiche con 42 tofei e sono quasi state distribuite tutte. Ringraziamo ancora tutti i valperghesi che hanno partecipato numerosi e i negozianti che hanno collaborato veramente la riuscita dell'evento. I bambini si stanno divertendo come ha detto il presidente vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti che saranno per l'estate Valperga in the summer con un calendario ricco di eventi, concerti e buona tavola. Abbiamo aggiornato il nostro sito internet e preghiamo tutti quanti di volerlo andare a visitare perché è molto carino, molto bello. Dove troverete tutti i nostri appuntamenti dove posteremo tutte le storie di Valperga, tutti i nostri sponsor. E sul sito ci sarà anche la possibilità e le informazioni su come diventare soci per partecipare attivamente agli appuntamenti di Valperga.